Salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Allora, oggi siamo in uno spacchettamento di Pink Panda. Ho trovato varie offerte molto molto convenienti, soprattutto una in realtà. C'è una cosa di cui io non posso fare a meno, quindi l'ho presa su Pink Panda. Anche perché nei negozi era aumentato in una maniera allucinante questo prodotto. Ora vi dirò. Comunque qui ho il pacchettino, lo apro proprio insieme a voi. Fa proprio rumore dell'acqua. 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 Fattura. Ho speso 27 euro e 49 centesimi. Non so se si vede comunque. C'è il pruribolo. Madonna, non riesco a guardarmi queste labbra senza niente. Diamo un po' di gloss. Meglio dai. Perfetto. 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 Allora sapete il mio amore incondizionato per questo balsamo lamellare di Evive L'Oreal il Wonder Water 8 secondi che praticamente vi cambia i capelli appena lo mettete sentite della seta e avevo finito le mie scorte, ne avevo preso 5 confezioni da Lidl che avevano messi a 5 euro, io nei negozi solitamente lo trovavo a 7 euro, ora avevo l'ultima confezione, ce l'ho a metà e praticamente mi ero fatto un giro per vedere quanto costasse ora e da 6 euro e 99 è passata alla bellezza di 10 euro e 99 ragazzi, mi sembra un po' esagerato, essendo che sono 200 ml e a me d'ora è pochissimo perché ho i capelli lunghi e hanno messo questa offerta su Pink Panda, per pochi giorni comunque ancora c'è, se vi potesse interessare, a 4 euro e 89 centesimi, ovviamente per la spedizione gratuita che c'era anche quel giorno, ci dovevo arrivare a una soglia di 30 euro, 25, non lo so, comunque ne ho preso qua per confezioni, così per un po' sono a posto e non devo spendere 10,90 euro per una boccetta da 200 ml, comunque una, due, 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 un libro, 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 un libro Poi stavo finendo anche il mio amato termoprogettore, sempre della stessa linea, questo non era in saldo, questo sulle è in settembre, però è rimasto al suo prezzo originale. Poi della stessa linea, che io non l'avevo mai provato ed ero curiosissima di provare, ho della stessa linea il Fizz Killer Serum, che è anche un termoprotettore fino a 230 gradi, ed è questo qui, è un po' piccolino perché sono 100 ml, sempre 6 ore e 99, però ce ne vuole sicuramente poco, vedete se ha lo stesso odore, mio dio sì, quindi ho preso questo. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia come sempre rilassato e vi aspetto al prossimo. Ciao! Ciao! Ciao ragazzi! Ciao! Grazie.